CODE OF WAR II, TRIKER ZONE, ANGELO IN CAMPO Partita già iniziata ragazzi, si vede perché già dall'anteprima qualcuno si muoveva quindi miro lì, svia e miro andiamo anche a 0,54 ragazzi abbiamo dato che dobbiamo fare punti no? bene, guarda, ci mettiamo di qui, up, via fia benissimo, andiamo a fare un altro gioco sono già 1320, io ho sviluppato praticamente il 10% di punti un po' insiste, un po' insiste 10% non c'è va bene, iniziamo a fare più punti, non lo facciamo praticamente stiamo nel corso, tutto il segno poi tutto termina, per me, tu florin florin florello, l'amore bello Nero, ma adesso andiamo già a facerlo fuori, vieni Saiyed, vieni, tu te ne sei andato Questa è già ricaricato, se mi ricordo bene, non so perché mi sta bloccando la manina C'è un pezzo grosso ragazzi, che è fatto fuori Oh la valli, oh la valli Oh la valli Oh la valli In fiorello, l'amore bello, dove sei qua? Batti, mi è risparito Prism aquí Ah, Cap Nascimento, anche lui è uno di quelli che troviamo sempre Cap Nascimento DSUltra Eh vabbè ragazzi, è il pezzo grosso, pezzo grosso, ancora non ho l'armi Molti stanno anche affittando un'arma in promozione Dobbiamo essere sinceri, potrei chitarla? Sì, sto cercando di capire la limitazione di questa Carma, perché a parte i 20 colpi a caricatore, non è male, devo essere sincero, non mi trovo così male Limitazione di 20 colpi, dicevamo, però fa abbastanza danni, devo essere sincero I danni sono calcolati anche in base al personaggio, ricordiamocelo prima Ab off-tempo vommati, vediamo che noi muitasissime Esatto come punto? Tahniår ti aver prenduto un paio Intervormati in valor Tantaglio ieri ma lo venire Non Oscar? Non, scena gli aliment Hubi 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 busi Ubi, 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 no, Ubi è entrato tardi, questi sono quando ci sono i cambi di giocatori, comunque andiamo a vedere perché non ho fatto caso molto, ah, sì oggi sono un po' così, ah, lui mi ha di vittoria, quindi vuol dire che alla fine non è uscita, deve essere il primo della squadra a fare punti, bene ragazzi, ci vediamo alla prossima partita.